Ben ritrovati, buongiorno a tutti voi cari telespettatori. Allora di Fano TV, siamo qua per la rassegna stampa, occhio ai giornali, come sempre. Allora, subito il santo, oggi in realtà non è un santo perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda l'esaltazione della Santa Croce, il sole è sorto alle 6.46 e tramonterà alle 19.21. Per quanto riguarda il bollettino meteo di oggi, intanto va segnalato che per la giornata di giovedì, quindi oggi, avremo venti forti di garbino con raffiche fino a burrasca. Questa è la segnalazione che arriva dalla protezione civile delle Marche, quindi venti forti di garbino con raffiche fino a burrasca, burrasca forte anzi, sulle zone interne e collinari. C'è un avviso di condizioni meteo avverse, il numero 22 che è stato diramato nella giornata di ieri. Poi, il tempo per quanto riguarda dunque le precipitazioni e quant'altro non ci saranno, sarà soltanto cielo inizialmente sereno, poi aumenteranno le nuvole nel corso del pomeriggio con addensamenti sui rilievi. Poi, domani, venerdì 15, avremo deboli diffuse precipitazioni anche a carattere di rovescio nelle zone, nelle ore centrali della giornata. I fenomeni saranno in esaurimento da domani sera, le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, stazionari invece in quelli minimi. I venti sono di brezza tesa, sud occidentali nelle zone interne e sud orientali invece lungo la costa. Dunque, la giornata di sabato si presenta con ancora cielo nuvoloso e addensamenti nelle zone interne, deboli o diffuse precipitazioni anche a carattere di rovescio sabato o temporale, in particolare però nelle zone dell'entroterra e, come vedete dalla grafica, poi qualche sforamento arriverà fino alla zona della costa. Rimarrà questa struttura depressionaria sulla penisola che determinerà condizioni dunque di tempo brutto per la prima parte della settimana. I giornali Corriere Adriatico, in apertura le ruspe in azione contro il degrado a Porta Capuccina di Pesaro, vicino alla stazione ferroviaria, lì c'è un parcheggio, verrà illuminato, tutta l'area tra la stazione e il Miralfiore verrà risistemata, i lavori inizieranno da lunedì. E sempre a Pesaro c'è la fotografia dell'inaugurazione di via San Francesco con questo cantiere infinito, un dignitoso ingresso alla città, detto il sindaco Matteo Ricci, che ha tagliato il nastro e ha mostrato la vecchia gomma nera come souvenir, quella vecchia gomma nera che c'era sotto i portici. E poi c'è la VL in richiamo in prima pagina, il basket in crescita e domani arriva il torneo di Lucca. Poi sotto invece a Fano il pusher motociclista smerciava cocaina in bicicletta, un blitz al bar, perquisizione in casa e arresto lampo, incastrato il rifornimento principale, il rifornimento principe dell'entroterra. Si tratta di un 29enne di Cartoceto arrestato per detenzione ai fini di spaccio. La prima pagina invece del resto del Carlino è per i vaccini e l'obbligo per far entrare a scuola i figli. Restano a casa contro l'obbligatorietà dei vaccini. Da domani sui banchi 49.625 alunni della provincia. Scuola, tre persone, tre bambini sono stati però ritirati perché i genitori non se la sono sentita di far vaccinare i propri figli e quindi sono andati contro la legge. Rubata la radiografia di Valentino Rossi, l'ospedale presenta un esposto, si indaga Torretta, l'ospedale di Torrette, su chi ha sottratto l'immagine della radiografia di Valentino Rossi. Sarebbe stata pubblicata su Facebook dopo l'operazione verifiche della Polizia Postale sull'accesso al sistema. Sarà comunque ascoltato anche il personale sanitario del Torrette. Vergognose invece le parole del padre di Vallefoglia, indagine sulle fake news. Parla il sindaco di Rimini che va giù duro sulle dichiarazioni del padre dei due marocchini minorenni. Poi troveremo e troverete sulle pagine interne del Carlino anche la cronaca. Fuga contro mano in A14, arrestati i predoni del rame, tre rumeni razziavano impianti fotovoltaici dalla polizia dopo un folle in seguimento. La pagina di Fano del Carlino, andiamola a vedere subito. Voleva erba, gli rifilano invece i panini. Oltre al danno, la beffa per un 28enne pakistano, il giovane aveva pagato 600 grammi di marijuana ma nel pacco ce n'erano soltanto 100 e invece, sempre per quanto riguarda la droga, nascondeva la cocaina nella tuta della moto. In manette un 29enne di Lucrezia aveva 11 grammi. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico è sulla sanità. Il Santa Croce, l'ospedale, è stato svuotato, aveva un capitale di 20 milioni, servizi indotto locale, luciatarsi all'attacco, sanità pubblica e privata, paradosso che stride. Cocanella tutta da motociclista, blitz perquisizione e manette, incastrato un 29enne di Cartoceto considerato il pusher di riferimento dell'entroterra, questo è il Corriere Adriatico, mentre sul resto del Carlino c'è l'operazione nostalgia voluta dal Comune e che come oggetto principale ha il ricordo del giuramento delle reclute risalenti agli anni 50. Quindi la NAIA, questo è l'oggetto. E qui c'è tanta gente che ha già dato la sua adesione per questo raduno che si terrà appunto domenica 17 settembre. È un primo raduno militare del 28esimo reggimento Pavia, si intitola questo raduno Io Cero ed è stato organizzato dalla cooperativa Alberghi e Consorziati d'intesa con il Comune di Fano. Questa è la notizia che troverete a pagina 13 del resto del Carlino. Poi tolti invece 30.000 euro dalla pulizia dei fossi, Bagari in Consiglio Comunale a Fano dopo l'accusa di Riccardo Severi, l'opposizione abbandona l'aula e poi dalla Valle del Cesano il problema dei sottopassi da presidiare tutte le volte che c'è qualche acquazione di troppo. L'associazione attraverso Marotta chiede all'amministrazione di agire in caso di allerta meteo mai più auto in balia dell'acqua, basta con promesse disattese, quando piove abbiamo paura. Beh, in realtà insomma quando c'è un sottopasso allagato mi pare che sia un po' azzardato andare, c'è poco da presidiare, c'è da presidiare il cervello di quelli che decidono comunque di attraversare il sottopasso con l'acqua alta mezzo metro. Apologia del fascismo invece, da Serrungarina, guardate questo Pinocchio, è il cimeglio di Manoni, di questo signore, che ha Pinocchio che fa il saluto fascista, scusate il saluto romano. Apologia del fascismo, Manoni trema, questo Pinocchio può costarmi caro, dice lui. Il collezionista di Tavernelle dopo l'ok del DDL Fiano alla Camera. Secondo la norma infatti è punita con il carcere la propaganda di contenuti del ventennio. Il nuovo segretario, andiamo sulla pagina di Fossombrone del resto del Carlino, il nuovo segretario ci costa più dell'altro, l'Unione accusa il sindaco che fino a fatto il famoso risparmio, c'è una differenza di 10 mila euro tra Volpini e Pistelli che lavora un giorno di meno. Vaccini, si sfiora il 100%, task force del Comune, siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, sono stati regolarizzati per il nido e le scuole dell'infanzia, solo 15 casi risolti su 1660. A Pesaro, dal Corriere Adriatico, addio alla Clelia della Piazzetta. La fotografia è per Clelia Clini che si è spenta a 74 anni, era una storica commerciante di scarpe a Pantano. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa dei Capuccini a Pesaro. L'arma dei Carabinieri all'ascolto dei cittadini, segnalate che cosa vi preoccupa, il colonnello Ricciardi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, è il tenente colonnello Luciano Ricciardi che prende il posto e succede a Marco Filoni. La pagina di Urbino invece del Corriere Adriatico è tutta per il premio che è andato ad un giornalista americano, un premio ormai prestigioso, l'Urbino Press Award che è andato al reporter della CNN. La cerimonia si è tenuta a Washington e l'uomo che è un neurochirurgo tra l'altro che qui vedete nella fotografia insieme all'ambasciatore Varricchio, questo è l'Anchorman o meglio il giornalista che comunque è e lavora anche per la CNN, lo vedete nella fotografia a fianco, in questa fotografia la prestigiosa emittente americana, di lui parla anche Forbes, negli Stati Uniti è una celebrità ed è stato premiato con il premio Urbino che poi ritirerà nei prossimi mesi. A Senigallia invece dal Corriere Adriatico, Baraccopoli in riva al fiume Cesano, blitz della Polizia dei Vigili Urbani, dalla Rulotta del Pastore è nato un vero villaggio, forse è un rifugio per clandestini, la Municipale ha offerto aiuto all'eremita con le pecore che rifiuta però di lasciare l'argine del Cesano, in effetti fa un po' vita da eremita, chi sarà andato magari a fare spesa lì vicino al centro commerciale, anche chi arriva da un po' tutta la provincia, sia di Ancona che di Pesaro e Urbino, forse avrà visto il greggio di pecore spesso vicino al fiume, sappiate che c'è dietro anche questo personaggio, questa persona che però si rifiuta di andare via, ha creato questa Baraccopoli sulle rive del fiume Cesano che ieri è stata controllata appunto dalla Polizia e dalla Polizia locale. Gli agenti del commissariato hanno trovato questa tendopoli però deserta, loro dicono insomma torneremo, c'è anche altra gente. Poi andiamo sull'ultima pagina, sempre del Corriere Adriatico, si parla dell'Uragano e dei ragazzi che sono rientrati perché dicono qui a Miami è tutto spettrale e quindi ce ne andiamo, siamo qua a fare che? Insomma gli studenti del Cambi Serrani sono atterrati a Londra, domenica aereo e pullman poi per tornare a casa. Un'altra mission impossible superata dal prof di Paola, trovare i posti sul volo e questi sono i ragazzi, la fotografia dei ragazzi all'aeroporto di Londra che oggi hanno trovato spazio sulle pagine del Corriere Adriatico. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa torna domani mattina come sempre alle 7.30, questo è il numero di telefono 338 4968 250 per le vostre segnalazioni, il telegiornale vi aspetta questa sera alle 20.30, sempre qui sul canale 17. Arrivederci.